Musica Cari telespettatori bentornati in diretta, questa nuova puntata di Primo Cittadino la dedicheremo al Comune di Monbaroccio, dunque do subito il benvenuto al Sindaco. Buonasera Sindaco, bentornato nei nostri studi, Emanuele è qua con noi, intanto vi ricordo subito il numero di telefono per intervenire in diretta, 0721 86 14 33, ma potete inviarci anche un messaggio oppure con Whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, dunque oggi le Marche, l'intera regione è in zona rossa, nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 400 contagi, però nel Comune di Monbaroccio la situazione è sotto controllo? La situazione è sotto controllo, abbiamo 10 contagi ad oggi con 14 quarantene, una situazione che si è monitorata negli ultimi tre mesi e è rimasta abbastanza standard su questi valori. A parte un picco a gennaio dove i casi erano 26 di positività, direi che i cittadini hanno risposto bene, hanno rispettato le normative, abbiamo usato anche linee un pochettino drastiche con la chiusura della piazza nei periodi arancioni e rossi e direi che grazie alle forze dell'ordine, il presidio del territorio, la polizia locale, i carabini, la protezione civile e tutto anche il grande lavoro che hanno fatto gli insegnanti a scuola ha premiato. E quindi purtroppo un anno fa la situazione era molto più drammatica a Monbaroccio a fronte delle difficoltà in RP, Residenza Proteta e Beato Santi, in RSA e direi che oggi invece la situazione è ben diversa, fortunatamente. Quante sono le persone contagiate e quelle in quarantena? Ad oggi siamo 10 con contagi ma tutti monitorati e non con grosse difficoltà e 14 le quarantene. E c'è anche l'indice che è molto buono? Siamo fortunatamente con l'indice più basso dell'ambito territoriale, o meglio dei 7 comuni appartenenti con la mancanza di Monte Ciccardo a 3,8. C'è un'altra notizia importante di oggi che è quella che riguarda AstraZeneca. Vorrei un attimo leggervi quello che ha scritto poco fa il governatore Francesco Acquaroli su suo perfilio Facebook. Vi comunico che anche nella nostra regione a causa della sospensione precauzionale e temporanea dell'AIFA dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale abbiamo provveduto a sospendere tutte le vaccinazioni in programma con il vaccino AstraZeneca. E ve lo dico perché ci stanno arrivando anche tanti messaggi giustamente per avere un po' di informazioni. I prossimi giorni le vaccinazioni continueranno. Nel momento quelle con AstraZeneca sono proprio sospese. Mi dispiace e mi scuso con i cittadini marchigiani per questi disguidi causati da una situazione in continua evoluzione e dalle continue riprogrammazioni e sospensioni che sono comprensibili ma che non sono imputabili in alcun modo alla regione Marchi, ha proseguito Acquaroli. Al momento sono dunque sospese tutte le nuove vaccinazioni sia per i cittadini ovvero 80, sia per il personale scolastico docente e non docente, sia per le forze dell'ordine. Saranno invece garantiti i richiami per i cittadini ovvero 80 che sono già stati vaccinati con Pfizer e Moderna nelle scorse settimane che potranno quindi recarsi nei vari punti di vaccinazione così come da programma per il completamento del ciclo vaccinale. Quindi insomma la situazione è un po' delicata però adesso sarà cura del servizio sanitario regionale, anche comunicare ai cittadini le nuove date di vaccinazione, ha precisato il Presidente, dopo il pronunciamento dell'EMA. Quindi attendiamo di sapere nelle prossime ore quale sarà l'evoluzione per questa questione. Voi avevate fatto degli screening a scuola, quindi due se non ricordo male, tamponi per cercare di controllare il più possibile i contagi. Sì, siamo intervenuti subito dopo le vacanze di Natale per vedere quale fosse stato il risponso appunto di quelli che potevano essere potenziali assembramenti durante il periodo natalizio e anche a fronte di una difficoltà che avevamo avuto con un nostro dipendente che guida gli scuolabus che si è rilevato positivo al tampone che avevamo fatto poi alla tagliata insieme agli altri comuni. A quel punto siamo intervenuti sulla scuola, abbiamo fatto i primi tamponi intorno alla metà di gennaio e i secondi tamponi intorno alla fine di febbraio. Fortunatamente, ma non grazie ai tamponi, importantissimi i tamponi farli ma soprattutto l'atteggiamento degli insegnanti e dei bambini a scuola era un esempio anche per gli adulti perché quando sono stato a scuola più volte per vedere e monitorare il percorso c'era da imparare per il ligio rispetto delle normative da parte di questi bambini che andavano dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, quindi dai 6 ai 13 anni. E anche quello è un grande momento di insegnamento, erano stati rilevati dei positivi in quel caso? Nella prima fase è stato rilevato un positivo, quindi è stata messa in quarantena una classe, quindi si è circoscritto il problema ad una classe mentre nella seconda fase è stato, siccome abbiamo monitorato anche i genitori che accompagniamo i bambini, è stato messo in quarantena un bambino perché è rilevato positivo un genitore che poi al secondo tampone è risultato negativo. Questo ci ha permesso di dare continuità all'ambito scolastico, alla continuità all'anno scolastico e fin tanto che non siamo arrivati al lockdown degli ultimi giorni la scuola a Monbaroccio c'è sempre stata, a parte comunque, a parte qualche parentesi che poteva, doveva essere garantita da qualche quarantena, ma nulla di che. Rimaniamo proprio sul tema delle scuole. Avete investito o state investendo per la messa in sicurezza dei plessi? Sì, noi abbiamo intercettato circa 2.650.000 euro, una prima tranche era partita con l'amministrazione precedente, poi bocciata e ripristinata dall'amministrazione attuale. Sono interventi importanti, non ci fermeremo qui perché è intento quest'anno di portare in progettualità anche la scuola di infanzia quindi realizzare il primo progetto, almeno preliminare, per quanto riguarda la realizzazione della scuola di infanzia che ha grosse necessità di interventi. Interventi che dovremmo fare tra quest'anno e il prossimo anno, almeno per la scuola primaria e secondaria, per quanto riguarda sia la struttura scolastica, quindi il plesso nella sua complessità, ma anche per la palestra che attigua la struttura stessa. Ok, quindi interventi di messa in sicurezza. Efficientamento energetico, messi in sicurezza, esatto. C'è anche un'altra notizia che è arrivata proprio in questi ultimi giorni perché sta lavorando insieme al sindaco di Fano, Massimo Seri, per una pista ciclabile che possa collegare i due comuni. Assolutamente, ho trovato grandissima collaborazione da parte del comune di Fano, non lo nego, come in tanti comuni, non in tutti purtroppo, però con Fano ho trovato una grandissima collaborazione, una grande disponibilità. La volontà è intercettare quelle che potrebbero essere le risorse, sia a recovery, ma soprattutto alla mobilità sostenibile delle nostre due realtà che sono attigue e che hanno un ambiente meraviglioso da valorizzare e presentare al turista. In particolare per quello che può essere un contratto di fiume, il fiume Arzilla in particolare, che potrebbe essere il connubio a fare la vallata del Metauro e la vallata del Foglia. Quindi essendo Monbaroccio una terra di mezzo, perché da una parte ci affacciamo su Fano, dall'altra su Pesaro, nonché sulla vallata del Metauro, che su quella del Foglia, secondo me potremmo essere un anello fra le due vallati in termini di promozione sia dell'ambiente che della mobilità sostenibile. Quindi passerebbe per Carignano, Beato Sante? Bravissima, Carignano, quindi la valorizzazione delle terme, dal Fenile, dove la pista ciclabile è già valorizzata, salendo poi per il Beato Sante, per via della Miana, con tutta la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, nonché delle aziende agricole, dei bed and breakfast, di quelle che sono strutture ricettive che possono essere valorizzate anche da questo percorso. Quando verrà avviato lo studio di fattibilità? Abbiamo già avviato, abbiamo fatto già il preventivo, abbiamo una bozza che l'abbiamo presentata a serie 10-15 giorni fa e crediamo che nell'arco di 30-40 giorni possiamo presentare un primo progetto di fattibilità alla Regione Marche, che dobbiamo e vogliamo coinvolgere in questo progetto perché è fautrice di questi contratti di fiume. E si vorrebbe coinvolgere anche la frazione di Villa Grande, no? Per collegarla a Monbaroccio, quindi anche lì una pista ciclabile? C'è una pista ciclabile che potrebbe essere legata a un percorso di mountain bike e di sterrato, c'è la grossa volontà da parte di questa amministrazione di collegare un circuito che possa permettere tramite un percorso pedonale il collegamento della frazione con il capoluogo attraverso il circuito del pontaccio e che permette di fare, di creare un anello interessando tutto il territorio in una mobilità sostenibile e anche molto allettante dal punto di vista di percorso ambientale. Senta invece la RSA a Bricciotti, ecco lì c'erano stati dei problemi, lo stesso di messa in sicurezza, quindi erano stati evacuati, se non ricordo male, lo scorso mese di ottobre, no? Tutti i 19 ospiti, ad oggi qual è la situazione? La situazione è che la struttura è ripartita a 5 ospiti al momento, abbiamo proposto all'azienda sanitaria di metterla in rete con quello che è San Salvatore, vista le difficoltà che ci sono in San Salvatore, considerando che la RSA a Bricciotti ha potenzialmente 40 posti convenzionati e dopo la riapertura potrebbero essere almeno 15-20 quelli messi a disposizione per le patologie meno gravi, che potrebbero essere secondo me interessate a San Salvatore liberando posti letto per difficoltà maggiore rispetto a determinate patologie. Quella che la RSA a Bricciotti ad oggi, posso dire che siamo bloccati rispetto al passato su quello che era il punto prelievi insito a quella struttura, ma che fra 30-40 giorni potrebbe essere ripristinato con un intervento di 15 mila euro. Queste sono le direttive che anche oggi stesso ho concordato con l'Aso. E dagli anziani ai giovani, nelle scorse settimane avevate coinvolto anche gli studenti universitari? Ho chiesto loro di disegnare Monbaroccio da qui a 40 anni, o meglio a 30 anni, perché stiamo facendo un progetto importante su quello che è il piano regolatore. Questi ragazzi che fanno parte del mondo universitario, vanno da architettura, ingegneria, mal sociale, a tutti quelli che è l'ambiente universitario, perché gli ho fatto una domanda molto semplice. Come vorreste vedere Monbaroccio da qui a quando sarete genitori voi per i vostri figli? E quindi si sono messi subito a collaborare, ci siamo confrontati più volte. Stiamo creando un punto di incontro per loro, sperando di creare un futuro per Monbaroccio passando attraverso le loro idee. E c'è anche un bando, perché chi uscirà, si laureerà con 110 elode, potrà avere un'occasione di approfondimento? Assolutamente, noi abbiamo fatto una scelta. Anzi, sto aspettando che la prima ragazza rientri da Padova, perché c'è stata la prima laureata con 110 elode. L'ho chiamata, lei causa lockdown, è bloccata, quindi non riesce a venire. Ed era la prima borsa di studi da 500 euro che offrivamo ai ragazzi per potenziare le loro ricerche, per fare viaggi istruttivi legati alla loro facoltà, ai loro studi. Ma non nasce. Un momento proprio di accrescimento personale, anche professionale. Premiare chi ha il merito. L'impegno. Esatto, esatto, ma non nasce da noi, è partito da Ciro Pavisa, da Ciro Pavisa che era un grande artista del nostro territorio e che fu premiato dall'amministrazione a sua volta in quei tempi per i titoli di studi conseguiti. E quindi guardando il passato magari qualcosa in futuro si tira fuori. E grandi insegnamenti arrivano anche dalla senatrice a vita, Liliana Segre. Dovremmo avere delle foto proprio con lei perché sindaco è stato settimana scorsa a Milano? Assolutamente sì, era venerdì scorso se non sbaglio. È stata una giornata intensa, bellissima perché sono andato a prendere il meriti di un altro, tra virgolette, generale Eder che quella volta salvò Ebrea, Monbaroccio, nonché tante figure che presso le grotte del Biatto Sante si erano nascoste a fronte delle rappresaglie tedesche. Avevo promesso alla senatrice, quando ci siamo visti la prima volta, con i ragazzi delle scuole medie dove stiamo portando avanti il progetto Lucina e il Buio della Shoah, progetti che arrivano dalla Val d'Osta alla Sicilia, che non avremmo dimenticato. E abbiamo fatto anche una scelta sul palazzo più importante che abbiamo a Monbaroccio, che è Palazzo del Monte, laddove ho promesso quella volta alla senatrice di realizzare un museo multimediale. Tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo tanto denaro, però quello che abbiamo intanto cominciato a fare è la progettualità. Abbiamo cominciato a stelare i primi progetti, in particolare il progetto preliminare, che ha previsto un intervento di 60.000 euro, che ho partecipato con 10.000 euro da parte del Comune e 50 del Ministero, e abbiamo anche le risorse per un progetto esecutivo che stiamo stanziando. Questa è una bellissima immagine perché rappresenta il Giardino dei Giusti, con tutto quello che si trovava all'ingresso del giardino, che aveva un valore enorme, era una giornata bella, era una giornata anche abbastanza calda per quanto potesse permetterlo il periodo, e abbiamo vissuto veramente un momento intenso per quelle che potevano essere le vicissitudini di allora, ritrovandosi con persone che hanno vissuto quel periodo in una maniera veramente sentita. Ci racconti qualcosa anche della senatrice, una persona accogliente, disponibile? Allora, quando mi ha visto non si aspettava che fossi lì, perché naturalmente si aspettava una famiglia tedesca che non poteva venire dalla Germania, per ovvi motivi legati al periodo. Allora, quando mi hanno chiamato, ero nelle retrovie con altre persone, lei era frontalmente opposta a me, e quando mi ha visto alzare, ha detto, ma questo l'ho vista che mi ha guardato, ci siamo incrociati negli occhi, mi ha detto, questo è un baroccio, mi ha detto, mi vanno a fare che oggi? Al che glielo ho spiegato dopo che ho ritirato il premio, mi sono avvicinato a lei, e abbiamo cominciato a parlare di diverse cose, fra cui anche questo progetto di cui ti ho appena detto, Simona. Quindi, è una persona, almeno per come l'ho vista quell'altro giorno, ridente, solare, e stava vivendo un momento molto particolare, perché aveva ritrovato il figlio della sua signora di casa, e quindi era stato un momento molto, molto intenso, legato a queste situazioni di allora, che non si aspettava nemmeno lei. Sandra, mi indica invece come sono stati questi primi anni da sindaco. Vogliamo fare un attimo anche un bilancio del lavoro svolto dall'amministrazione comunale? Sì, direi che i primi sei mesi abbiamo cercato di rimettere a posto un pochettino le carte, risistemare un po' i conti e quant'altro. Poi è scattato il periodo Covid, e quindi, insomma, ci sono state situazioni che, insomma, ci siamo raccontati, anche perché l'ultima volta che sono venuto qui era appena prima del periodo Covid, era un periodo natalizio, Simona, quindi è cambiato il mondo negli ultimi 12 mesi, 13 mesi, o meglio, ormai 14. Abbiamo fatto un'analisi, e come ho avuto modo di raccontare e girare la redazione, ci tenevo a fare anche il punto di quella che a volte va fatta puntuale, come a dire cosa avete fatto in questi 14-16 mesi. E c'è stato un riscontro importante, perché se facciamo un pochettino i conti, non mi piace fare i conti, però i numeri piacciono alla gente, e quindi ci tengo a rappresentarli. Abbiamo sostanzialmente tra fondi raccolti, investimenti pronti, poi cantierabili, abbiamo raggiunto quasi 4 milioni e 2, 4 milioni e 300 mila euro. Se pensiamo che con la fusione, qualche anno fa qualcuno ci promise 5 milioni in 5 anni, forse in 18-20 mesi abbiamo quasi raccolto quello che poteva essere una promessa che poi doveva essere ottemperata. Però quindi c'è stato anche un importante lavoro da parte dei vostri uffici, perché intercettare quelle risorse è impegnativo. Assolutamente, abbiamo fatto un grandissimo lavoro con gli uffici, che poi sono anche molti in fase di cambiamento, perché abbiamo avuto l'uscita di una ragioniera, abbiamo avuto l'inserimento dell'ufficio tecnico, con un nuovo responsabile, abbiamo delle figure in uscita, un periodo di pensionamenti, quindi sarà anche un anno di trasformazione. E a fronte di ciò gli uffici sono comportati ottimamente, perché tutte queste risorse portate sia in house, ma anche con qualche supporto esterno, ci hanno permesso di raggiungere un percorso che potrà essere veramente, non solo cantierabile e realizzabile, ma che può dare sicuramente un po' più di lustro al nostro comune, che merita tanto per quello che ha da offrire. Mi ricordo anche lei che era stato uno dei promotori delle battaglie, prima che diventasse sindaco. Assolutamente, eravamo in tanti, eravamo in tanti ancora legati. Dall'opposizione poi? Come si moscava? Dall'opposizione, quindi cercavate comunque di farvi forza e avete raggiunto quello che speravate, quindi l'obiettivo. Eh sì, e quando uno raggiunge un obiettivo così importante, che con dei voti così importanti, deve dare risposte importanti al territorio. Abbiamo cominciato con questi percorsi e fra le più importanti che potremo dare quest'anno sarà la riapertura di Palazzo del Monte, perché come ho promesso a Varis, ci sarà immessa tutta per poter riaprire il palazzo e così quest'anno, eccolo qua. E così quest'anno, spero che per fine anno, ma comunque per l'inizio dell'anno nuovo, con un investimento di 600 mila euro cofinanziato con la Regione, ci permetterà di fare quegli interventi strutturali per riaprire le porte e far sì che si visiti quello che si può intanto visitare, perché è una struttura. Questi invece sono i rendering del nuovo progetto, un progetto che abbiamo come preliminare, come accennavo prima, riguarda un percorso scientifico, quindi tutto legato alla figura di Guido Baldo che di Galileo, nonché, eccolo qua, qui siamo al piano superiore, c'è stato un grosso contributo da parte degli architetti Troisi e Mazzolani e di tante altre figure che hanno collaborato. E questo invece è quello più legato a Liliana Segre, quel progetto che ti avevo accenato prima. Qui troviamo un centro studi per quanto riguarda le scuole, come vedi intorno, trovi immagini legate al periodo, in fondo a quelle arcate trovi una stanza di proiezione, libera, aperta, mentre questa è l'altra stanza. Come vedi in basso trovi un binario, che adesso magari qui si evidenzia poco, e si collega al binario che ritroviamo a Milano, nonché ai quadri e agli aspetti tutti legati al multimediale nella parte alta. Sulla parte destra, che adesso si vede di meno, in particolare vicino a quell'orologio legato a quel video, troveremo tutta una fase di piastrelle in QR, tutto in formato digitale, cioè dove tutti i ragazzi che stanno lavorando sui progetti legati a luci nel buio, quest'anno sono circa 180 istituti scolastici che partecipano. L'anno scorso abbiamo premiato anche un paio di istituti di Fano. È avuto sempre un grande successo quell'iniziativa. Assolutamente. Nell'ultimo anno è esplosa. Quest'anno ancora più intensa a fronte poi del periodo legato all'ambito scolastico. Sulla parte destra, ti dicevo, queste piastrelle dove tutti questi codici QR rappresenteranno tutti i lavori dei ragazzi in modo tale che il mio sogno è quello di rivedere i ragazzi fra vent'anni con i loro figli, venire a Monbaroccio e far vedere i loro figli quelli che erano i loro lavori durante il periodo scolastico. Servi è veramente una cosa meravigliosa. Vorrei anche leggerle subito un messaggio che ci è arrivato. Un telespettatore, una telespettatrice ci ha scritto Sindaco migliore, lo abbiamo solo a Monbaroccio, non mollate mai, siete una squadra fantastica. E faceva parte di questa squadra anche Varis perché ci seguono tante persone da tutta la regione Marche. Raccontiamo brevemente per chi non dovesse conoscere. Varis era ed è una persona meravigliosa che ha dato veramente tanto a Monbaroccio, scomparsa qualche mese fa. però è rimasto nel cuore di tutti. Sì. Emozionante, capisco, perché abbiamo avuto anche noi modo tante volte di intervistare Varis. Si è sempre impegnato, prodigato per il suo comune, per l'amore della propria città ma anche per tutto quello che riguarda la cultura, i musei, senza mai chiedere nulla in cambio. Lo possiamo dire sì? Assolutamente. Sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno della notte. Era un riferimento quando arrivavo in paese la mattina e quando uscivo la sera perché lo ritrovavo quando entravo e quando uscivo. E poi c'erano tutti i suoi suggerimenti da quello che poteva essere una difficoltà sullo scarico delle acque e quella che è la valorizzazione del museo e tutto quello che poteva essere la valorizzazione del territorio. la sua conoscenza sull'aspetto del verde, del bosco, della storia, dei periodi di guerra di cui raccontavamo prima un pozzo senza fine di... Un grande esempio veramente. Anche insegnante, l'abbiamo reso anche insegnante perché gli ultimi periodi mi ricordo che è venuta a scuola con noi, anzi gli abbiamo imposto di andare a scuola perché non se la sentiva inizialmente ed è stato insegnante per i ragazzi che oggi sono diventati delle mini guide raccogliendo le sue indicazioni. Quindi abbiamo i ragazzi che portano avanti la voce di Varis e i suoi ricordi. Dunque, andiamo avanti perché possiamo parlare anche della sistemazione delle mura del centro storico che lui sicuramente amava. Assolutamente sì, abbiamo intercettato un finanziamento di 200 mila euro per il primo intervento di sistemazione e abbiamo anche con lui concordato la piantumazione della lavanda visto che abbiamo circoscritto tra il comune le mura di Monbaroccio con una importante piantumazione di lavanda che speriamo veder fiorire almeno le premesse ci sono al momento secondo anche questi soprologhi fatti questa mattina verso giugno-luglio anche a fronte di quella che è la collaborazione che abbiamo con l'infinito del Beato Santi dove la promozione della festa della lavanda avviene tutti gli anni in questo periodo di giugno-luglio e questi sono i 200 mila di intervento di sistemazione delle mura del centro storico. E vediamo spesso anche sui social degli scatti bellissimi perché il paesaggio e il panorama poi è veramente meraviglioso. O il comune è più bello della provincia se non me ne vogliono gli altri. Giustamente orgoglioso. Andiamo avanti con i progetti e possiamo parlare anche delle problematiche legate al disesto idrogeologico perché anche qua ci sono in campo 50 mila euro. Esatto, faremo interventi legati in termini di progettualità come disesto idrogeologico abbiamo diverse difficoltà in particolar modo una frana al cimitero del Beato Sante laddove anche lì abbiamo intercettato al di fuori di questa progettualità altri 50 mila euro per l'intervento questi sono altri 45 mila euro per il disesto idrogeologico e se ne aggiungono degli altri legati sia alla viabilità sia appunto alla progettualità di Palazzo del Monte sul progetto definitivo esecutivo quindi sono tutti progetti e senza eccoci qua senza progetti non si va da nessuna parte cioè si possono fare tutte le chiacchiere che si vogliono ma se non si fanno progetti e questi sono progetti vada bene legati alla cultura e questo è per noi fondamentale perché abbiamo posto due pilastri su cui partire il sociale e la cultura questa amministrazione ha detto se c'è da fare un asfalto in meno e fare un progetto in più sulla cultura lo facciamo e su questi progetti possiamo costruire le fondamenta vanno viste forse in un'ottica di medio-lungo periodo ma comunque vanno gettate le fondamenta Sindaco abbiamo ancora tanto di cui parlare e tanti altri progetti ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco e siamo tornati in diretta al nostro ospite il Sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci Sindaco continuiamo con i progetti e ripartiamo dall'efficientamento energetico quindi l'illuminazione pubblica eccetera in questo senso che cosa avete fatto e in che modo siete intervenuti ci siamo posti l'obiettivo che in 5 anni vorremmo cambiare almeno 75-80% di tutta l'illuminazione pubblica del territorio nonché rafforzare l'illuminazione pubblica nelle aree periferiche abbiamo cominciato già dal 2019 abbiamo fatto interventi importanti sul territorio di Villa Grande Cairo e in parte di Monbaroccio e quest'anno a fronte di un altro contributo di 100.000 euro destineremo parecchie di quelle risorse a quello che è l'efficientamento energetico quindi aree periferiche da rivalutare in termini di efficientamento energetico con nuova illuminazione nonché continuare su quello che il percorso ha attuato e lo facciamo e questo ci tengo a dirlo a tutti in house non esternalizziamo nulla da questo punto di vista perché ritengo che il lavoro fatto dai dipendenti del Comune di Monbaroccio in particolare in Sussi Cantonieri sia molto molto efficiente e nonché prolifico e questo premia perché lavorare per il territorio conoscere il territorio aiuta e tenerlo in casa avrei potuto esternalizzarlo già dal primo giorno non l'ho fatto perché credo in questi ragazzi che stanno facendo un ottimissimo lavoro altre risorse sono destinate anche non solo all'efficientamento ma anche alla viabilità perché lì stiamo facendo sia con la provincia ma anche in casa due percorsi quello di una rotatoria importante che serve nella zona industriale è stato di questi giorni anche qualche altro sopralluogo fatto con imprenditori e locali e quello che vorrei che si realizzasse in questo quinquennio che appunto è quel marciapiede che collega Villa Grande da Monbaroccio perché non solo rende più sicura quella viabilità ma anche più facile da usufruirne perché il percorso lo merita ampiamente Interverete anche sul manto stradale quindi copertura di qualche buca insomma o più o meno nella situazione il comune di Monbaroccio è stabile buona Sì sulla viabilità interveniamo costantemente adesso siamo intervenuti in particolare su delle strade come via della Miana perché il nostro territorio per quanto la popolazione intorno ai 2000 abitanti è di 28 km quadrati quindi molto esteso in termini proporzionali molto 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 però insomma stiamo facendo un buon lavoro anche lì cerchiamo di fare quanto più possibile in casa grazie al lavoro dei nostri ragazzi che hanno bisogno di un sostegno anche lì vorrei integrare nei prossimi mesi una figura almeno a tempo determinato per far sì che a fronte di un'uscita di un cantoniere avuta l'anno scorso si possa rimpinguare con un'altra figura perché invece di 4 figure oggi ne abbiamo 3 e una forza lavoro su 4 è un 25% che pesa Comunque non ci sono tante segnalazioni di bucche quindi insomma più o meno vanno bene le strade buonasera a proposito di illuminazioni a quando l'installazione del faro al campo sportivo chiedono abbiamo già fatto l'incontro con la regione stiamo solo aspettando che ci eroghino i 38 mila euro previsti l'ho promesso per quest'estate prima dell'inizio dell'attività di settembre sperando che naturalmente abbiamo un po' rallentato da quel punto di vista perché essendo ferma l'attività ci siamo un pochettino fermati ma nell'estate è previsto l'intervento rimaniamo sulle strade le fermate del bus anche lì abbiamo intercettato 100 mila euro di risorse e stiamo rifacendo progettualmente diverse pensiline in particolar modo nell'area centrale di Villa Grande che permetterebbe anche una maggiore serenità di afflusso visto che quella più trafficata e manterebbe più maggiore sicurezza quello che è l'attesa del bus abbiamo l'intervento su 5-6 pensiline sul territorio complessivamente e sono 100 mila euro che ho chiesto agli architetti che ci stanno lavorando di renderle anche un pochettino più moderne nel senso che se uno ci deve attaccare un pc o ci deve attaccare un telefonino abbia la possibilità di connettersi anche dalle pensiline o comunque non abbia difficoltà di connessioni quindi proprio passo con i tempi una volta che ci si mettono le mani insomma di farle abbastanza tecnologiche è un intervento importante che un baroccio non è mai stato fatto e che ritengo che dia miglioria ai ragazzi che attendono la Corriera la mattina e li permette anche di rendere la vita un pochettino più facile nell'attesa di e poi c'è anche il rinnovo del Parco Mezzi c'è il rinnovo del Parco Mezzi lì abbiamo intercettato un bando con la regione di 40 mila euro copartecipati 30 mila da parte della regione 10 mila da parte del comune quindi nonché il mezzo per la protezione civile che abbiamo acquistato quindi nell'ultimo percorso abbiamo un mezzo elettrico totalmente elettrico un mezzo ibrido e un mezzo GPL che sono andati a sostituire tutti i mezzi a benzina e gasolio andremo avanti da questo punto di vista con l'installazione di qualche colonina elettrica nella prossima estate e stamattina continuiamo a valutare la possibilità laddove potremmo arrivare di sostituire altri mezzi con mezzi di questa portata cioè ibrido o elettrico e invece per la casetta dell'acqua? la casetta dell'acqua è pronta l'abbiamo installata abbiamo avuto solo il problema nell'ultimo mese che la ditta che doveva finire o meglio il lavoro è terminato ma doveva attivare la casetta è stata in quarantena e in covid completamente bloccati quindi non si sono potuti muovere ma per Pasqua la casetta è pronta quindi insomma manca davvero poco no ma installata da guarda Simona da diversi mesi ce l'abbiamo ferma lì abbiamo fatto tutti i collaudi con l'azienda sanitaria con Marche Multiservizi e dobbiamo solo terminare il percorso delle tessere quelle che sono gli ultimi edempiamenti burocratici poi il resto va quindi delle tessere che poi distribuirete voi oppure qualche esercente esatto come funzionerà? sia il comune che l'esercente avranno a disposizione queste tessere che uno potrà andare a ritirare e poi ricaricare direttamente dalla casetta inserendo le proprie monete o ricaricandola dall'esercente stesso Gli eventi invece Sindaco suppongo che più o meno siano stati tutti annullati farete qualcosa in modalità online state cercando di ripensare le iniziative oppure per il momento avete deciso di bloccare tutto? No non abbiamo bloccato anche perché ho intrapreso un'importante collaborazione con Gradara sul percorso dantesco che quest'anno vorremmo in particolar modo quest'estate poter realizzare e c'è la parte legata al Dante religioso con collaborazione al Beato Santi in particolar modo non che il Dante amoroso dalla parte di Gradara che insomma non è uguali con Gasperi è un ottimissimo rapporto la collaborazione è sempre viva e abbiamo attivato anche un percorso legato al centro storico per concerti in piazza noi li prepariamo ci vogliamo trovare pronti nel momento in cui ci sono le possibilità se poi non ci saranno le condizioni valuteremo il percorso digitale è quello che potremo fare insomma certo al sindaco di Monbaroccio previsto il metano di città in località Beato Sante è un intervento che è stato valutato e che ha bisogno di numeri su questi numeri in base alla popolazione che abbiamo naturalmente l'ente che predispone l'intervento vuole capire quanti contratti vuole fare pertanto ho chiesto la collaborazione a Colli al Metauro visto la vicinanza di poter collaborare con Colli per integrare quelle che sono le unità abitative di Montegiano e del Beato Sante anche con quelle del confine che abbiamo con Colli in modo tale da poter valorizzare ancora di più i numeri e quindi rendere più appetibile all'operatore l'intervento le chiedono anche se è prevista un'estensione dell'illuminazione in via Ciro Pavisa assolutamente sì quindi lì è prevista prossimi mesi entro l'anno nei 100 mila euro che dicevamo prima è prevista un rafforzamento è prevista lì è prevista nell'area dedicata alla Marchigiana Mobili per intenderci l'incrocio che porta nell'area industriale è prevista nella via Leopardi che scende tra Villa Grande e il Cairo ed è prevista un rafforzamento nella zona di Montegiano Sindaco ci aspettano sicuramente due settimane ancora difficili poi il periodo di Pasqua dove anche lì subremo una stretta vuole lanciare un messaggio ai suoi concittadini sono stati bravi lo scorso fine settimana non si sono verificati degli assembramenti no io sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto i miei concittadini ci sono resi conto che quello che hanno affrontato l'anno scorso purtroppo è servito e ad oggi i comportamenti sono veramente rispettosi fra loro e del territorio stesso quindi c'è molto rispetto gli uni con gli altri c'è rispetto alle distanze naturalmente dobbiamo sempre fare attenzione però affinché la sticella rimanga alta di quella che è l'attenzione e mantenere quelle che sono i dovuti rispetti della mascherina l'igiene le distanze in modo tale che si possa superare questo periodo e sperare appunto in quello che sarà il percorso vaccinale previsto almeno per come ha conferito l'assessore Salta Martini in maniera intensa e importante dalla metà di aprile in poi dove dovrebbero arrivare anche i vaccini perché purtroppo la difficoltà è nel numero dei vaccini trovo che mi sento di ringraziare anche i medici di condotta nonché la nostra assistente sociale nonché il nostro farmacista per la grande collaborazione avuta in questo anno e per la grande collaborazione che hanno dimostrato nel percorso futuro per il percorso vaccinale che si andrà a fare perché anche l'altra sera quando ci siamo confrontati non solo si sono messi a disposizione ma hanno indicato quello che potrebbe essere il percorso per ottimizzare il percorso vaccinale e renderlo più rapido in una realtà come la nostra si potrebbe fare un intervento importante in pochissimo tempo nonché devo ringraziare questi ragazzi che insomma tutti i giorni ormai sento e che per me sono una delle più grandi soddisfazioni avute quest'anno o comunque negli ultimi 18 mesi perché non si sono mai negati di fronte a niente instancabili instancabili dei guerrieri e quindi li abbraccierei uno a uno non posso lo faccio virtualmente da qua dunque ci sarà diciamo questo periodo in cui tutti staremo un po' più a casa quindi didattica a distanza smart working le chiedo lo metterà la fibra in tutte le frazioni la fibra è partito il percorso questa mattina mi sono sentito con la zona industriale in particolare alcuni imprenditori e la zona industriale è già servita c'è solo un problema più che altro un problema legato alla gestione dell'apparato anche se la fibra è già stata stesa quindi c'è solo un problema di allaccio Villa Grande ha già avuto la fibra estesa Open Fiber che è tutto questo che è il primo percorso l'ha fatto Telecom Open Fiber ha fatto presente che entro dicembre dovrà conferire su tutto il territorio la fibra i primi abbonamenti secondo me i primi allacci potranno essere previsti già da maggio giugno per quanto riguarda Villa Grande e la zona industriale certo e speriamo anche che per quel periodo insomma torneremo tutti in ufficio a lavorare e anche a scuola in presenza per le elezioni Emanuele sei il sindaco che Monbaroccio ha sempre voluto perché sei proprio uno di noi e ce lo scrive Enrico io con questo messaggio vorrei chiudere con lei qua questa puntata grazie per essere stato nostro ospite insomma cerchiamo di avere tanta pazienza e dobbiamo sicuramente fare i bravi e rispettare le regole ringrazio voi per l'invito vi auguro una buona Pasqua l'auguro a tutti i monbaroccesi sperando insomma che il post Pasqua sia un periodo di rilancio per tutti grazie Emanuele Petrucci grazie al sindaco di Monbaroccio ma grazie anche a tutti voi che ci avete seguito vi ricordo che alle 22 e 30 andrà in onda il telegiornale Occhio alla Notizia il Tg di Mezzasera e poi l'informazione tornerà domani mattina alle ore 7 con la lettura dei giornali grazie ancora sindaco e buona serata a tutti grazie a voi grazie a tutti